ciao ragazzi come accennato su instagram farò dei vlog oggi domani domenica e lunedì riguardante alla mia gara che farò in val di sole in più farò vedere anche il mondiale in val di sole di dh for cross e cross country parto oggi pomeriggio spero di arrivare in tempo per guardare il for cross che inizia alle nove e mezza se non sbaglio e quindi adesso sono ancora a riccone devo partire adesso vi faccio vedere la mia bicicletta che l'ho preparata per fare questa gara la gara che farò è una gara di e bike monta bike elettriche è un short track praticamente si gira ad anello per un'ora di tempo c'è salita estrema e discesa estrema si passerà addirittura dentro un tratto della pista di down hill poi da lì si passa sulla pista di for cross e poi un pezzo di cross country quindi diciamo che mi è piaciuta questa formula dove puoi vedere diciamo e mettere sotto torchio la bicicletta perché lì c'è molta salita e c'è molta discesa quindi avere una bicicletta anche sbloccata non servirebbe a nulla perché vai su in salita estrema e discesa estrema quindi non ti occorre un motore truccato le biciclette sono tutte originali devono essere tutte originali al limite dei 25 km orari motore da 250 watt e quindi sei in regola con la gara questa è la bici che ho preparato per l'evento diciamo che ci ho fatto poche modifiche ci ho messo su l'amortizzatore della fox ci ho messo su un kashima quindi un po più performante come lavorazione alle minime lavora un po meglio rispetto al rock shox che aveva su di serie anzi lavora anche molto meglio rispetto all'amortizzatore di serie poi niente ho messo su questa continente al posteriore mountain king questa qua da 2.4 dietro e davanti ho lasciato una rocket ron sono ho montato 180 davanti e 160 dietro direte ma sei matto a fare la discesa con dei freni da 160 sì è vero però in questa configurazione riesco a non far bloccare la ruota e dietro quindi utilizzo più il freno davanti grazie anche l'aiuto della bs riesco avere una frenata potente senza bloccare la ruota e quindi la bicicletta non mi si scompone mi trovo molto bene riesco a fare delle staccate molto performanti non mi piace fare la scodata come si fa di solito nei film perché la scodata ti fa perdere tempo solo una cosa di di tra virgolette show io cerco di fare il tempo essere più pulito possibile e avere una bicicletta abbastanza competitiva in salita perché questa è una bici da trail fa 130 davanti 130 al posteriore sono molto penalizzato in discesa rispetto a altre bici che vedremo nella gara sicuramente si presenteranno anche con delle biciclette da enduro 160 180 io vado con una 130 perché sono sicuro che in certe condizioni di pista riesco avere dei vantaggi in salita quindi a guadagnare trialeggiando in salita quindi secondo me è un buon compromesso avere una bici da trail per fare questo tipo di percorso spero che mi duri la batteria perché la batteria la gara dura un'ora spero che mi duri perché ho provato a fare una simulazione di guida di corsa scusate simulazione di di gara sono arrivato proprio batteria morta un'ora quindi devo cercarmi di gestirmi gli ultimi 20 minuti con la batteria lo spero perché non voglio arrivare senza batteria dopo un'ora di credo tutta perché ci voglio da tutto il gas che posso cerco di mantenere un ritmo abbastanza veloce e costante secondo me il segreto essere costante su questi tipi di gara perché devi sperare magari che qualcuno tra virgolette mettiamo le corna però non succede che fuori oppure è stata la catena oppure c'è qualche problema meccanico quindi cercare di avere un ritmo giusto senza esagerare senza bruciarti le gambe perché chiaramente quando non ti aiuto il motore dalla bicicletta elettrica diventa muscolare tutti gli effetti ma non è una muscolare tradizionale pesa tantissimo la bici quindi diciamo che ti puoi bruciare le gambe bisogna stare molto attenti questo tipo di gara quindi cercare di viaggiare sempre sulla 25 km orari più o meno in tutti i percorsi più o meno tecnici della pista che dire la bici è pronta io sono carico a molla ogni tanto ho bisogno di un po di adrenalina perché io sempre corso in moto ogni tanto un po di adrenalina mi mancava e ho bisogno di sentire qualcosa che mi scorre nelle vene di estremo e adesso mi vado a fare questa garetta spero che ci siate anche voi e se venite la gara inizia subito dopo come ripeto dopo la la gara della dh quindi inizia alle 18 30 partenza la partenza è proprio dove c'è l'arrivo della dh quindi avremo anche un sacco di gente che si guarderanno una bella figurazza farò comunque non mi interessa io l'ho fatto solo per divertimento per vedere ancora un po tra virgolette farmi sentire un po vivo perché ho bisogno di sentire ogni tanto un po di discossa adrenalina e stare un po tra virgolette tra gente che va forte perché mi fa stare bene in più c'è un un ambiente bellissimo perché ci sono tutti i migliori piloti del mondo ci sono anche tanti amici che mi vengono trovare se volete venire trovare dopo la gara credo che finisca alle 19 30 magari ci facciamo un saluto e quindi adesso vado a caricare la base nel camion e ci vediamo domani un altro blog ciao a tutti ragazzi